Si sa, a volte, quando si fruga nelle cantine e nelle vecchie rimesse si trova di tutto, dalle cianfrusaglie ai ricordi, e può anche capitare di trovare dei piccoli tesori. Certamente però i carabinieri della stazione di Soriano Calabo, facendo una perquisizione domiciliare per la ricerca di armi nell'abitazione di un 64enne, non avrebbero mai immaginato di trovare un patrimonio di tale importanza. Insieme ai militari dello squadrone li portato cacciatori Calabria, tra pacche e materiali di risulta di ogni genere, hanno trovato alcune imponenti e vistose statue di marmo bianco e rosa, e anche due grosse anfore. Chiamati i colleghi del Nucleo di Tutela Patrimonio Culturale, è stato accertato che si tratta di due statue di marmo rosa, raffiguranti leoni stilofori zoomorfi, e di due statue di marmo bianco raffiguranti dei leoni, oltre a due vasi funerari con anze zoomorfe, sul cui corpo, in basso rilievo, è raffigurata una scena di cavalli. Inoltre sono stati anche scovati due puttini, verosimilmente appartenenti ad una base di un altare ecclesiastico, in marmo bianco con base in marmo rosio. Tutti beni protetti dal codice dei beni culturali, in ragione del loro valore storico, artistico ed ecclesiastico. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione e di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, e i manufatti sequestrati in attesa di scoprire la loro provenienza, e soprattutto chi li ha trafugati e nascosti in quella rimessa.